Ciao e bentornati sul canale! Perché questo cambio di voce? Così proprio? Perché è troppo cute! Allora, nonostante Deadpool, tu non l'abbia ancora visto perché ovviamente è un Peggy molto più alto però è un personaggio iconico molto simile Allora, secondo me i migliori di tutta questa checklist erano la ballerina che purtroppo non c'era e lui Questi erano i più belli secondo me Perché guardate quanto è carino quella ballerina Funko mini, quindi parliamo Però purtroppo tipo c'erano questo, il dinosauro quello con la torta e forse il ninja E lì deve arrivare perché sono alle casse della Lidl, per precisione Se li volete trovare dovete andare la mattina in cui... stai aprendo? No! La mattina in cui escono Quello è fondamentale per riuscire a trovarli Mandate qualcuno, chiunque per trovarli Questo sembrava veramente bello però Andiamo a vedere? Aspetta, aspetta con calma Ma non vogliamo che si spezzi nulla E no, visto che è legato Ah, ok Vuoi una forbice? Sì! Questo può servire? Questo era il suono di Deadpool che precipitava al suolo E meno male che là dentro ha la plastica che lo protegge Infatti, quello è la sua utilizzo Hai visto che ha le spade sporche di torta E certo, perché la tagliata Per saltarne fuori Bene Esatto Ma quanti? Ci hanno messo anche dei chiodi per fissarlo Non lo so No, è che è molto di... Ah, no, raga È un po' Headknockers No È fantastico Vediamo se accende un po' la luce che magari è un po' meglio Allora, Headknockers è non stupendo meraviglioso di più Con la torta, bellissimo Marvel, Funko Certo, tutte le specifiche per il fatto che è originale Ma anche gli altri, secondo te, sono... Ma non lo so Non ne ho le po' di idea Questo è veramente stupendo Con la torta... Ah, ma perché fa... Se non sbaglio Tipo Deadpool fa 30 anni Sì, è per il 30... No, del personaggio Marvel Eh, esatto Non dei film perché è uscito più... Infatti sulla torta c'è scritto 30 Ah, bello Che carino! Quindi qualcosa può essere rimasto... Ma questi sono quelli che si mettono in macchina? Nascevano con questa utilità Adesso la gente si ritiene a casa Perché in macchina si scolorano E si rovinano Quelli che ti può appoggiare Il caglionino che si muove E mentre vai si muove la testa Quelle robe lì Esatto, però Quello era forse da... Come sono nati Ma adesso sono semplici oggetti da collezione Lui finirà in vetrinetta Insieme all'altro mini funko Che trovate sul canale di Stitch Sì Ma... Ma... Non è... Esatto Non vedete che personaggia Molto, 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 molto Allora, molto, molto bella Devo dire che tra tutti Uno dei miei preferiti Poi con questa cosa qua È ancora più carino Sono curiosa di vedere Se anche ballerina Deadpool Fatemi sapere Se voi siete riusciti a trovarli Quale avete Questa testa così Quindi io vi ricordo Di iscrivervi al canale Mettere un like Condividere, commentare Scherzare la campanella Per essere usati su tutti i video Come sempre Noi vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao